Noi di Ruffino, da 140 anni, portiamo avanti gli stessi valori. Il gusto dello stare insieme, il rispetto per ciò che ci circonda, l'impegno verso gli altri. Per questo motivo abbiamo deciso di dare un nome a tutto questo. Ruffino Kers, ovvero il nostro impegno a prenderci cura delle persone e dell'ambiente. Dal 2018, insieme alle più virtuose aziende mondiali, noi di Ruffino abbiamo aderito all'agenda globale e agli obiettivi di sviluppo sostenibili promossi dall'ONU. Otto sono gli obiettivi sui quali come produttori vitivinicoli possiamo intervenire in maniera più diretta. Abbiamo cominciato da tre, che sono già in fase avanzata. La tutela dell'ambiente e la sua biodiversità è il nostro primo obiettivo. Dal 2014 siamo certificati ISO 14001, la certificazione internazionale di gestione ambientale. Dal 2018 siamo Biodiversity Friend, certificazione della World Biodiversity Association, che attesta, con monitoraggi scientifici, una gestione della produzione a basso impatto ambientale, che preserva la biodiversità e la salubrità dell'ambiente. Abbiamo adottato un manuale di buone pratiche agricole, per la corretta implementazione di tutte le fasi della gestione vitivinicola, in ottica ecosostenibile. Con la viticoltura di precisione, possiamo gestire i diversi vigneti in base alle caratteristiche climatiche del suolo. Da molti anni abbiamo adottato un protocollo interno di sostenibilità, volto all'eliminazione di erbicidi e all'utilizzo della concimazione organica. Nel 2021 più del 40% dei nostri vigneti sarà a conduzione biologica. Verifichiamo costantemente il consumo dell'acqua in ingresso e in uscita e un'attenzione particolare la rivolgiamo alla gestione delle acque di scarico, grazie ai nostri impianti di depurazione all'avanguardia. La fitodepurazione permette di trattare in modo naturale le acque di scarico delle cantine, grazie all'uso delle piante palustri e del filtraggio naturale dell'acqua a mezzo di sabbia e ghiaia. Rivolgiamo una costante attenzione agli sprechi e all'impatto ambientale e siamo arrivati a riciclare oltre il 75% dei rifiuti prodotti. Bere responsabilmente non è un semplice slogan, ma un valore che sentiamo e condividiamo. Secondo noi, bere vino significa elevarsi nel piacere dello stare insieme e non isolarsi negli eccessi. La convinzione che il vino sia una delle più alte espressioni del vivere italiano, ma che tuttavia non si debba sempre trattare e rispettare in quanto bevanda a base alcolica. Numerose sono le iniziative di solidarietà che abbiamo nei confronti delle categorie più deboli. Abbiamo preso in capo la gestione dei 1200 ettari di verde del Parco Dynamo Camp, primo camp di terapia ricreativa per i bambini con gravi patologie. Qui, ognuno di noi può svolgere attività di volontariato e la metà delle ore dedicate sono permessi retribuiti. Attraverso l'impegno verso l'associazione Miadi, sosteniamo progetti per l'ospedale pediatrico Meyer. Durante l'Employee Match Day, ognuno di noi può donare una somma ad una horus e l'azienda raddoppia il contributo. Ci siamo impegnati e continueremo a farlo, perché la nostra presenza sul territorio, e non solo, aiuti a migliorare le nostre vite. Perché Ruffino cares. Ruffino cares. Il cuore verde di Ruffino.